Se vogliamo ottenere in tempi rapidi dei risultati che siano davvero incisivi sulla qualità della salute della nostra comunità, servono molte risorse per rendere questi piccoli piani dei piani straordinari. Bologna, Torino, Milano, Venezia, Treviso. Un patto per la lotta allo smog del vaccino padano. E potrebbero essere davvero tanti i sindaci della pianura padana domani all'incontro convocato a Milano dalla strana coppia Conte e Sala. Due sindaci, due colori politici, ma questa volta l'obiettivo è comune, la salute dei cittadini. In modo assolutamente trasversale, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei nostri cittadini e soprattutto restituire alle future generazioni un bacino padano, una padana delle città meno inquinate. Un incontro convocato proprio nella giornata mondiale della Terra che da 54 anni si celebra il 22 di aprile. Domani saranno presenti diversi esperti. Dal tavolo di lavoro dovranno emergere linee guida, un piano straordinario che contenga misure urgenti e concrete con il quale andare a bussare le porte del governo. Capiamo che il momento è difficile, è altrettanto vero che grazie agli studiosi e agli scienziati che domani saranno con noi creeremo delle linee guida che saranno realizzabili se tutti noi ci crediamo. Noi sindaci, noi presidenti di regione, noi governo e noi Europa. Determinato il primo cittadino che per primo aveva inviato una lettera al ministro Picchetto Frattin chiedendo un incontro. Treviso ha già raggiunto il limite massimo di sforamenti consentito per il 2024. Put transennato oggi, accessi chiusi per la domenica ecologica, un appuntamento promosso dalla regione del Veneto nell'ambito delle misure di contenimento delle polveri sottili, viabilità modificata dal 9 alle 18, una misura che aiuta ma evidentemente non basta.